Raga, se avete una salamella in frigo e tanta fame dovete fare questa ricetta, dai! Tagliamo finemente uno scalogno, ora prendiamo una salamella, la incidiamo e togliamo il budello, ragazzi, che non si mangia. Andiamo in padella, filo d'olio, scalogno, salamella e rosoliamo bene fino a colorare sale, pepe e adesso, pum, si stappa. Fumiamo la nostra salamella a coltino bianco e ci sarà un profumo pazzesco. Troccoli in acqua bollente, li bolliamo e a metà cottura li tucchiamo in padella. E' arrivato il momento, ragazzi, di mantecare, acqua di cottura, gorgonzola dolce e mischiamo bene il tutto. Ci sarà una cremina pazzesca, un po' di formaggio grattugiato e sentite il rumore dell'amore. Raga, non ci resta che assaggiare. Siamo pronti? Che spettacolo!